buonasera bentornati all'appuntamento con arteventi news ecco per i nostri approfondamenti stasera parliamo di radio d'epoca con umberto alunni il nostro amico divulgatore siamo nel 1944 a firenze durante la seconda guerra mondiale a firenze nasce radio cora la radio partigiana clandestina umberto ci vuoi parlare di questa esperienza la città di firenze e la radio a suo modo hanno contribuito alla lotta partigiana durante il periodo della seconda guerra mondiale stiamo parlando di radio cora acronimo di commissione radio nome dato a un emittente clandestina gestita dai membri del partito d'azione fiorentino con lo scopo di mantenere i contatti tra i comandi alleati e la resistenza toscana durante il 44 stiamo parlando di cinque mesi cinque mesi di attività un'attività che durò da gennaio del 44 ai primissimi giorni del giugno dello stesso dello stesso anno la sua prima sede fu a piazza dell'indipendenza e la prima trasmissione quasi in logica e in stile radio londra fu l'arno scorre a firenze i messaggi di questa radio venivano trasmessi in alfabeto morse ulteriormente decriptati e il luogo di trasmissione di ricezione veniva spostato in continuazione c'era una ovviamente per evitare la localizzazione da parte dei tedeschi da parte dei nazisti c'era un must una regola in base alla quale non si poteva trasmettere più di due volte al giorno da una stessa da una stessa località gli ideatori del progetto furono Carlo Ludovico Ragghianti e l'avvocato Enrico Bocci poterono contare sul supporto di molti ma a me piace ricordare quello che ha fatto la segretaria dell'avvocato Bocci Gilda La Rocca un personaggio particolarmente silente ma che ha avuto un ruolo importantissimo nello sviluppo nel successo di Radio Cora aveva il compito di trasportare la radio da un luogo all'altro e di lavorare sulla decriptazione dei messaggi che che pervenivano Gilda era uso spostare la radio attraverso un borzone della spesa e sopra la radio metteva degli ortaggi proprio per dare la sensazione di essere andata a fare la spesa e quindi diciamo di non urtare suscettibilità in chi incontrava purtroppo vennero individuati con un radioconiometro e il 7 giugno del 44 venne fatta irruzione nel luogo dove dove erano Piazza d'Azzeglio e ci fu praticamente ci furono grandissimi problemi il marconista Luigi Gimorandi con uno scatto felino prese una pistola a un tedesco e riuscì ad ucciderne uno poi però insomma venne venne soppresso tutti gli altri vennero vennero presi vennero malmenati e fecero purtroppo una brutta fine dell'avvocato bocci non si è saputo più niente e purtroppo il corpo non è stato più ritrovato Gilda da Rocca due volte ha tentato il suicidio per evitare quindi per porre fine a tutte le agonie e le angherie subite e poi in ultimo venne deportata riuscì a fuggire dal treno e a salvarsi e quindi questa sua azione ha consentito a tutti noi di poter ricordare per filo e per segno questa esperienza interessantissima descritta meravigliosamente dalla stessa Gilda da Rocca in un libro la radiocora di Piazza d'Azzeglio e le altre due stazioni radio l'edizione del 1985 l'ultima edizione è del 2004 comunque ci piace ricordare ancora una volta Gilda da Rocca e tutti i suoi e tutte le persone che hanno contribuito perché questo è uno spaccato di storia fiorentina uno spaccato di storia toscana ma direi uno spaccato di storia umana dal 1944 al 1948 il 13 giugno per l'esattezza a Sansepolcro in provincia di Arezzo ci fu una violenta scossa di terremoto ecco la radio nazionale inviò sul posto due giornalisti per seguire e testimoniare ciò che avveniva alla popolazione ecco Umberto ci vuoi raccontare questa esperienza il 13 giugno del 1948 la cittadina di Sansepolcro è stata scossa da un terremoto particolarmente significativo costringendo 15 mila persone circa a vivere sotto le tende prontamente allestite dalla della Croce Rossa la radio nazionale non rimase insensibile a questo a questa calamità e inviò tempestivamente due due cronisti per poter supportare un racconto che potesse dare visibilità e voce all'evento al terribile evento questi due cronisti che poi svilupparono due percorsi professionali completamente diversi erano un certo Nando Martellini e un certo Lello Bersani allora radio cronisti particolarmente in erba ma che svolgono un lavoro eccellente un lavoro meraviglioso e si dedicarono prontamente al racconto testimoniale inserendosi tra le persone e generando in pochissimo tempo un documentario significativo che sconvolse il palinzesto nella radio nazionale perché dopo appena dopo due giorni il 15 giugno insomma intorno alla sera venne sviluppato appunto questo documentario il Radio Corriere aveva previsto altri programmi che vennero appuntamente sostituiti mi riferisco all'attualità che era un programma fino alle 22 e 20 e poi il concerto del quartetto Ars Nova e della pianista Bruna Barbetti quindi ancora una volta la radio aveva assolto ad una funzione importantissima una funzione sociale veramente importante riconnettendo quel territorio disastrato con il resto d'Italia attraverso le onde elettromagnetiche e mantenendo soprattutto fede al suo inventore che aveva individuato nell'avvicinamento tra persone il valore fondante della sua creatura tecnologica Grazie a tutti! Grazie a tutti!